Il prossimo fine settimana Fano e la sua marineria celebreranno il loro forte legame attraverso la tradizionale festa del mare arrivata alla sua 59esima edizione. Un calendario come sempre fatto di momenti ormai ben cadenzati e consolidati tra commemorazioni ufficiali e religiose come la toccante deposizione in mare della corona di fiori a ricordo del pesante contributo in termini di vite umane che il mare ha richiesto. Come per la tragedia del giugno del 64 che colpì la marineria affanese ed il rito religioso ufficiato dal vescovo Armando Trasarti domenica mattina dopo la deposizione della corona di fiori al monumento ai caduti e la consegna della targa ai lupi di mare della classe del 36. Due giorni da non perdere quindi interessanti per chi non conosce esplorare la storia di Fano, assaporare i suoi gusti, le sue tradizioni, il pesce, la moretta eccetera e soprattutto avere un bel momento conviviale nel ricordo dei marinai che hanno dato la vita e verranno onorati anche dopo la messa quelli del millesimo del 36 perché ogni anno noi premiamo un millesimo dei marinai e soprattutto si ricorderà quelli che sono morti in mare nel fortunale di ormai 50 anni fa. Tutto questo perché la collettività si riunisce nella storia e nelle tradizioni e progetta il futuro. Ma la festa del mare è appunto una festa che ha bisogno dei suoi momenti ludici e nelle due giornate di sabato e domenica sono diversi gli spunti ed i momenti da non lasciarsi perdere. Primo fra tutti l'aspetto gastronomico, la cucina marinara e le sue salde tradizioni sono un asse portante della manifestazione. Nella zona ormai pedonalizzata in estate della banchina del porto in prossimità della palazzina dello Iat la cooperativa Pescatori Fanesi offrirà a partire dalle 19.30 specialità gastronomiche e marinare. Che cosa servirete? Cosa cucinerete? Facciamo spaghetti alle vongole, sardoncini scottadite, spiedini, pesce fritto, cozza alla marinara. Il tutto sarà accompagnato naturalmente da buona musica eseguita dalla band dei Carta Carbone e di Vitamina C. Novità di questa edizione in entrambe le serate nel parcheggio di fronte al mercato ittico all'ingrosso verranno proiettate immagini storiche dell'universo marinaro fanese e si avrà l'occasione di assistere alla presentazione di un trailer del nuovo docufilm sulla marineria ancora in fase di realizzazione dai film maker Andrea Loddovichetti e Luca Caprara. Da non perdere la sedicesima mostra marinara allestita come ogni anno dai volontari dell'associazione Il Ridosso incentrata quest'anno sui maestri d'Ascia, i calafati fanesi che costruivano le mitiche barche in legno nell'ex teatro Santa Rita, attiguo alla chiesa del Porto. A suggello di tutto poi domenica sera alle 23.30 Molo Levante chiuderà la manifestazione l'immancabile spettacolo pirotecnico.